Ciao Antonio, questo video che te lo faccio per l'installazione, così vuoi sapere dove vale, faccio prima che fare la scansione. Allora questa è la caldaia, che è uguale alla tua, e poi c'è la pompa più importante, la pompa principale diciamo così, che è la pompa in pianto e la mette sul ritorno, quindi c'è pompa e valvola di non ritorno, unidirezionale, e il ritorno tutto in basso. La mandata invece, la mandata della caldaia la puoi fare un terzo o tutto in alto, la mandata è senza circolatore, qui ho messo un po' di roba, il manometro, un jolly, la valvola di sicurezza. Sulla mandata devi creare un bypass, adesso non ci passa e chiede la telecamera. Un bypass sulla mandata, che si inserisce sul ritorno, e anche se non si vede, qui attaccato, c'è subito una valvola di non ritorno, perché così stanno sempre in contropressione. Qui c'è il modulo piastre, come quello che hai detto di te, e c'è un più sofferto, dal sanitario della 3d, lo preso anche per caricare tutto l'impianto, e qui c'è un gruppo, con la miscelatrice automatica, tu hai la manuale. No, sostanzialmente, adesso ti ho fatto vedere il capo un po' più lungo, perché questo è un 1500, ma non cambia tanto del tuo, è un 1250, che tu hai un 1500 speciale, è solo più alto. Allora, l'abbiamo... No, no, perché pure corso d'opera. E così, oh, se ci sono cose che non capisci, ci telefoni e ti salutiamo. Ciao anche da Giorgio. Ciao! 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 Ciao!